Buonasera e benvenuti alla nuova rubrica culturale che andrà in onda ogni sabato alle 19.30 su T9. Ogni settimana vi faremo vedere le piccoli e grandi bellezze della nostra città che seguiranno il prologo dell'assessore alla cultura del Comune di Roma Gianni Borgna. Speriamo con questa rubrica di farvi conoscere angoli segreti, nascosti o spesso maltrattati della nostra bella città. Ed ora vediamo l'intervista con l'assessore Gianni Borgna. Come si sta concludendo l'estate romana e un bilancio? Si sta concludendo molto bene e il bilancio è direi straordinario. Quest'anno batteremo ogni record, anzi glielo posso dire in anteprima, daremo naturalmente i numeri, ma insomma quest'anno sono stati veramente molti milioni i visitatori, gli spettatori di tutte le manifestazioni estive e questo fa di Roma direi un caso veramente unico in tutta Europa. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.